Ci siamo, tutto pronto, partiti i puledri della terza corsa. Molto veloce la Fata Silente che si porta subito al comando nei confronti Lady Arcana, terza posizione per Luxury, quarta per Larix, quinta per Milano Sanremo, in sesta posizione lungo la corda Berba Volant, lasciare alle loro spalle Oulet e poi l'altra debuttante Red Art. Si sta controllando in questa fase con la Fata Silente che poi ha lasciato spazio all'interno per Lady Arcana, terza posizione per Luxury, quarta per Larix, quinta all'interno ancora Berba Volant, poi ha recuperato un pochino Oulet, all'esterno c'è Milano Sanremo, in coda a tutti ancora Red Art. Siamo in dirittura d'arrivo, Lady Arcana a mezza lunghezza di vantaggio rispetto alla Fata Silente che sta provando a reiterare l'attacco, in terza posizione c'è Luxury ma all'esterno di tutti si presenta anche Milano Sanremo, Larix va di dentro insieme alla stessa Red Art che ha recuperato una marea di lunghezze, Berba Volant che è più o meno sulla stessa scia, quando siamo a 300 dal traguardo, Lady Arcana è ripartita sotto lo slancio di Larix, ci prova ancora Milano Sanremo con gli altri che sono rimasti in quota, e allora Lady Arcana a questo punto deve solo controllare perché è tutto fatto con la vittoria facile, la seconda della verità per la figlia di Arcano che conquista questa bella affermazione, al secondo posto Larix e al terzo Berba Volant. Dopo il terzo posto nell'ultima uscita ribalta il riferimento di nuovo Lady Arcana che vince così la seconda corsa in carriera, al terzo tentativo Gabriele Cannarella in sella, training di Sebastiano Guerrieri, i colori di Vittorio e Giovanni Vitale, due al primo posto, buono il secondo anche per Larix, e al terzo posto abbiamo visto transitare il numero 8 Berba Volant, quindi 2-3-8, è l'ordine d'arrivo ufficioso, numerico, probabile, della terza da capanello. Grazie. 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 Grazie.